3 su 3, 3 su 3 a Gasperini, 1 a 0, la Fiorentina vince con l'Atalanta in casa 3 punti, non d'oro, ma non esiste un metallo, forse il platino, perché la Fiorentina vola a 42 punti a meno 2 dall'Atalanta, diciamolo sottovoce a meno 5 dalla Champions con una partita in meno. L'abbiamo detto, comunque veramente una prova di sofferenza, una prova di orgoglio, di determinazione, di perseveranza è stata veramente dura, ci saranno le polemiche, Gasperini piangerà ancora perché tanto ha perso 3 partite, ha pianto dopo tutte le 3 partite, oggi però Gasperini non c'è stato il rigore. C'è stato quel fuorigioco, però francamente anche appigliarsi a quello secondo me è una vittoria meritata questa perché la Fiorentina ci ha messo più spirito, ci ha messo più determinazione, ha giocato meglio, ha voluto più vincere questa partita perché veramente sin dall'inizio l'ha interpretata con un coraggio aggredendo l'Atalanta, non rinunciando mai a rischiare qualcosa in più, sempre a proporre, sempre a proporre e mai a difendere, mai a proteggere. Hai fatto una partita veramente intelligente perché poi nel finale ti sei un po' abbassato però hai tenuto armi dal contropiede come Sottil, come Piontek che comunque ha tenuto sui palloni. Ragazzi ma Piontek ne vogliamo parlare, Piontek è veramente eccezionale, eccezionale il lavoro che fa, perché fa il reparto da solo, perché davvero messo in un sistema che funziona, con un allenatore che funziona, può non essere un fenomeno, non è sicuramente Vlaovic, non è un fenomeno Piontek che mi ha messo in un contesto che funziona, in un contesto ben definito, in una squadra che ha un'identità ben definita, con l'italiano che ha dato un'impronta a questa squadra, sin dall'inizio allora anche un bomber che magari non è un fenomeno riesce subito ad ambientarsi bene, a capire i movimenti che gli sono richiesti, fatti Piontek rispetto alle ultime esperienze dove era soltanto un bomber d'aria di rigore, adesso si sbatte, viene al centrocampo, fa dal raccordo, fa salire la squadra, fa gol, è rapace d'aria, perché veramente il gol è da grande bomber, il gol è da grande bomber, perché in una frazione di secondo, in mezza volata, anticipa Toloi e anticipa Musso e sorprende tutte e due, quello è veramente un gol da grandissimo rapace, da attaccante di levatura insomma, ma poi hanno giocato bene tutti, Nico González che ha fatto l'assist per il gol, ma è un giocatore che sta crescendo nelle ultime uscite, è un Nico González molto più incisivo, un Nico González che strappa, un Nico González che finalmente lo vediamo partecipare attivamente nel gioco offensivo della Fiorentina e magari non incaponirsi solo da solo, ma riuscire a essere più associativo, essere un giocatore che ti fa la differenza con questi strappi e con queste iniziative, perché insomma è un giocatore che ha una qualità, che ha una velocità, che veramente ti può risolvere le partite, e oggi veramente quell'asse lì tra González e Pionte che sul gol alla fine la partita l'ha decisa, proprio nell'unico momento in cui è bruciato Demiral, che ha fatto una partita fenomenale, ha bloccato praticamente tutte le nostre iniziative offensive, ma lo stesso Sottil, lo stesso Sottil anche nel secondo tempo, anche nel finale, è bravissimo a tenere su qualche pallone, ma è Sottil che tenta sempre la giocata, che sviluppa anche certe azioni dal niente, come quel tiro da lontanissimo in cui è stato fenomenale Musso, come quel cross per Nico González che poteva essere anche più pericoloso, è un giocatore veramente Sottil che ti può creare un pericolo da un momento all'altro, ma qualcosa insomma di eccezionale anche lo sono stati oggi centrocampisti, sia quelli in campo sia quelli fuori, Castrovilli sta tornando, il Castrovilli che conosciamo, il Castrovilli che si inserisce, il Castrovilli partecipe anche lui, il Castrovilli pericoloso in fase offensiva qualitativa al centrocampo, e che per poco veramente anche lui non pesca quell'inserimento vincente, non Castrovilli in grande crescita, ma quando è entrato, ma lo stesso Bonaventura ha giocato bene, Amarabat ha fatto un'altra partita di grande sostanza, dove ha recuperato pallone, ordinato Amarabat sta svoltando anche lui, ma lo stesso Duncan è entrato con lo spese giusto, ma soprattutto anche Malé, veramente un veterano, steneva pallone, rallentava anche per certi versi il gioco, veramente ti addormentava anche i ritmi nel finale, dove alla fine più di tanto diciamo non hai sofferto, e poi la difesa è impenetrabile. Igor benissimo, Milenkovic granitico, granitico Milenkovic, granitico, eccezionale, roccioso, mancherà Sassuolo, l'ha tolto anche prima Italiano, ma l'ha tolto è entrato Martino Esquarta, che è entrato benissimo in campo, zero sbavature, concentratissimo, sul pezzo sempre, come Terzini, che è entrato benino anche Terzic dopo un'altra grandissima partita, da parte di Biraghi e di Odriozola, comunque sempre di grande impegno, e poi lo stesso Dragoschi che si è fatto assolutamente trovare prontissimo in tutte le situazioni della partita. Veramente bene, veramente molto molto bene tutti, oggi veramente nessuno, nessuno sotto la sufficienza, tutti hanno fatto una partita veramente di grandissimo spirito, di grandissima dedizione, e abbiamo visto anche oggi veramente una grande Fiorentina, soprattutto nella prima ora di gioco fino al gol, una Fiorentina che ha una forte identità, una Fiorentina che ha veramente una fortissima identità, ammarcatissima da parte del suo allenatore, e che va a vincere questa partita con Gasperini, che prima piange e lì ha casciato alla panchina dopo il gol della Fiorentina, e poi si incazza dopo il fuorigioco di Ateburro sul gol dell'1-1, e addirittura viene espulso. Mi sembra che l'avversario Fiorentina per Gasperini stia cominciando a diventare un po' un tabù, ma soprattutto soffra la partita anche dal punto di vista emotivo, perché tutte le volte, oh, la volta del cellulare, la volta fa il silenzio stampa, oggi si fa espellere, il Coppa Italia, il Coppa Italia ha scoppiato la polemica, e va a sfogarsi in intervista, con Pioli litiga, a più non posso se quell'episodio di chiesa, veramente Gasperini la soffre sempre di tutto, tutte le volte succede qualcosa, tutte le volte Gasperini in qualche modo esplode, e ne esce con le ossa rotte, perché non può che farci piacere. Fatevi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valanga mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, forza Viola, perché siamo veramente ripartiti da un periodo complicato, tutti ci davano per morti, ma qui di morto non c'è niente, la Fiorentina c'è, la Fiorentina lotta per l'Europa, la Fiorentina se la gioca con tutti. E' a questo punto, arrivederci dal prossimo video.